Al di là dei simboli, quello che per noi ha avuto sempre una grande valenza sono gli uomini e le donne di buona volontà che incarnano i sentimenti del nostro movimento politico di Sicilia Vera e quindi è chiaro che oggi la candidatura di Daphne è l'unica candidatura in grado di essere rappresentativa per la città di Messina e per l'intera Sicilia. Di questo credo che tutti ne siamo veramente convinti.